Meghan Markle potrebbe aver accennato ad un ritorno sui social media. Ma il principe William e la principessa Kate, hanno rilasciato una nuova funzionalità che ha scatenato la frenesia dei fan. Meghan Markle, ha accennato a un possibile grande ritorno su Instagram proprio mentre il principe e la principessa del Galles, hanno introdotto una nuova funzionalità sul loro account sui social media. Il primo passo verso il ritorno mediatico della duchessa di Sussex, si è rivelato con l'apparizione del endolchiocciolamegan.l account, è aperto al pubblico ma non contiene biografia, il che ha portato a speculazioni frenetiche, che potrebbe essere collegato a Meghan Markle. Ma secondo una fonte parlata al Mail on Sunday, questo è sicuramente il racconto di Meghan, che pianifica un drammatico ritorno sui social media. In una precedente intervista con Fecat, sul suo podcast Spotify, Archetype, ora cancellato, Meghan ha fatto riferimento a un futuro ritorno. La duchessa di Sussex, ha detto all'intervistatrice, vuoi sapere un segreto? Torno, su Instagram. Ma da quel commento, nessun post è stato caricato sull'account. Tuttavia, chiocciola Meghan, ha accumulato più di 128.000 follower, molti dei quali legati alla duchessa, tra cui Cadi Lee, che possiede un centro benessere di cui e cofondatrice a Venice, in California, e Mandana Dejani, che lavorava a stretto contatto con i Sussex, e sono apparsi anche nelle loro docuserie su Netflix. Ciò avviene quando il principe William e la principessa Kate, hanno introdotto una nuova funzionalità sul loro account Twitter. Ora chiamato X, la coppia ha condiviso un riepilogo degli impegni del mese precedente in quello che hanno chiamato il riavvolgimento di settembre con il principe, e la principessa del Galles. Il thread descriveva dettagliatamente le visite, tra cui la visita di William Apret a Bournemouth, la loro apparizione sul podcast di rugby di Mike Tyndall, la mattinata di Kate Holler e Neasio Wilton e il modo in cui celebrarono il loro primo anniversario della morte della defunta regina.